Siete pronti per un riscaldamento? Oggi si balla! Siete pronti per un riscaldamento? Siete pronti per un riscaldamento? Siete pronti per un riscaldamento? Per oggi è tutto, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al mio canale e se volete lasciare un commentino fatelo sulla mia pagina Instagram, mi chiamo carolina con la k. Ciao!